Eri su questo treno scusa? Sì. E com'è dato il primo viaggio? Piuttosto sfortunato? Eh sì, 40 minuti in ritardo, però perlomeno c'era il treno che aveva un buon odore questa volta, invece che il solito odore, il solito squallore di sempre. Però vabbè, almeno il treno era buono, l'unica cosa è il ritardo, poi il resto del viaggio è andato bene. Ma vi hanno spiegato i motivi? No, io penso perché non sono abituati ad avere treni così nuovi, quindi penso che abbiano fatto magari un po' di fatica le prime volte. Quindi nessuna comunicazione vi hanno dato? A meno che io sappia no, perché dopo mezz'ora che ero sul treno ho messo le cuffie e fino a questo momento non ho sentito più niente, quindi basta, penso. Poi non so se hanno dato qualche comunicazione. E niente.